Ciao, ciao. Grazie, Daniele, un piacere. Gabriele. Qualunque cosa è veramente amissibile. Sei esperto di fare prigioniera? Vada prigioniera. Tu essi. Buonasera, ciao. Vi ho portato Luigi che stasera vi darà la mano. Ciao, ciao. Vi ho detto al Fabio, l'ho letto sei volte, è più complicato del re. Ho anche il mio blog. La pelle ce l'ho. Però stasera io mi sto qua. Arrivo. No, ma vado bene i golo. Vado bene i golo. E allora mi hanno scrittivato per aver bene i golo. Il testo non è che si sobbia. Se poi si è fregato, è certo. Cosa fare? Non fare sì. Si fa la prigioniera? No. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.